Oh ben ritrovati ragazzi sul canale d'animaggio, eccoci di nuovo su Rise of the Tomb Raider, siamo al capitolo numero 15 e quindi ciao sono Mario, 42 anni, soffro d'amneria, non ricordo il passato Eccoci di nuovo qua con questa fantastica esclusiva Xbox One che piano piano sto portando a termine, eravamo arrivati qua, il nostro amico era stato rapito e quindi dovremmo essere sempre più vicini alla fine del gioco Guarda che ruba, vai Lara che sono già abbastanza stufo eh Tanto tra l'altro sto registrando questo gameplay a cavallo di Santo Stefano il 27 di dicembre, tra l'altro la domenica mattina del 27 devo anche andare a lavorare E quindi mi verrebbe da dire Dio fa ma non posso dirlo Daniele sei pessimo Lara cosa è successo? E adesso siamo quindi alla ricerca del nostro amico, se non vado errato Vediamo se riusciamo a raggiungerlo Segui il sentiero di Sofia fino alla base della Trinità Lara perché ma per... Oh oh ho sbagliato ho sbagliato qualcosina Daniele sei pessimo Tanto ho finito Assassin's Creed Si... No 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 Ti ho attaccato Ho visto dopo che c'era Hai Lara che sono stufo Taccati Maria suarda Oh my Dicevo ragazzi Stiamo cercando di salvare l'amico Jonah Dicevo che sto finendo... ho finito Assassin's Creed Syndicate Con l'ambientata a Londra all'ultimo uscito Da Venkia sepolta sotto il ghiaccio Quindi dobbiamo andare Informerò la squadra di scavo e preparerò i trasporti I nostri hanno incontrato gli immortali negli archivi Non sarà facile fratello Il sacro cammino è impervio e accidentato Gli uomini sanno a cosa vanno incontro No Ma sono pronti a combattere Morire per la causa E ciò che ci serve da loro Constantine Ora che siamo vicini alla fine Abbiamo appena iniziato Temo che la Trinità ci stia usando Se non ti lasciassero tenere la sorgente Dovremmo essere profondi No Devi avere fede Non è la Trinità che mi ha scelto Quando la sorgente sarà mia Non conteranno più nulla Guiderò Si arriva più a una fine Impronte Segui i sentieri che salgono la montagna Dai Lara Poco più feglie Sono dappertutto Ma torna Ma basta Hai visto il movimento e hai reagito L'ovra è fatto C'è sempre la voce Junior Ma andate Mori ammazzati Eh ma Cristio Cristo Cristo proprio Altro che Cribio Maledetti Ma andate Mori ammazzati Ma Ma Vaffanculo Dio fa Ma poi Poi uno deve Stenere Ma Dio cane Che gioco E cazzo Daniele Simplissimo Sono dappertutto Hai visto un movimento e hai reagito L'ovra è fatto Ma bruh bastard Ma bruh bastard Sembra tutto sotto controllo Tieni gli occhi aperti Aspettiamo compagnia Mimico avvistato Ah Come Zocca del Piero Ma vaffanculo Ammazzati lui con un colpo adesso Ma come Si sente sempre Puuu Ma Un albero di betulla Che non ha nessun senso Che succede Che succede Che succede Sta accadendo tutto a pezzi Non preoccuparti Si stanno preparando tutti per andare Ora Ehm Uccisione della signorina croft Ma vabbè Ma la mori ammazza oh ma cosa è questo? guarda, l'ho fatto male, guarda, l'ho fatto male ma dio, fa Daniele perché stai giocando così male che sul senso? ma chi? ma cristo madonna si è fatto male madonna si è fatto male niente, non riesco ragazzi stasera non riesco a giocare dio, fa cribbio para para non so constantine ha dato solo un ordine generale di perversi chi ha? direi anche abbastanza giustamente non volete morì devo continuare su di là si, una specie di culto del sole ma non si può, non si può rispettare, non riesco sto iniziando a bestemmiare ragazzi, ve lo dico che è successo? il camion era troppo pesato sta accadendo tutto a prezzo non preoccuparti si stanno preparando cribbio i mortali, 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 mortali sono niente ma sta accadendo tutto a prezzo primo la è giusto da uccidere perché si ferma ma cristo non so Che è successo? Il camion era troppo pesante. Sta accadendo tutto a pezzi. Andiamo a chiamarti. Non preoccuparti, ma si stanno preparando tutti per andare via. Bene. Abbiamo trovato quello che ci stavamo. Non so. Constantine ha dato solo un ordine generale di prepararsi. Siamo sotto attacco! Sbattagliamoli. Sbattagliamoli ammazzando. No, muera mi. Ma non mi ha fatto male ecco. Ehi, comunque non sono posteriore. Oلani. Loni d'attacco, per esempio. Oh, forse ce l'ho fatta, eh, ragazzi. Forse. Non fa in gola di affatto. Libero, 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 libero. Cosa c'è qua? Mi muovo di affatto, cazzo di frecce. Si uccideranno, no, sti maledetti? Basta! Io sono già morto mille volte. Stiamo li ammazzando. Cazzo, Dio Santo. No! Ehi, do mamma pain. Do mamma pain. Vabbè, ma sono una testa di cazzo io però anche, eh. Dio fa... E ride quell'altra di là. Fate un'altra risata! Ok, allora, il primo ucciso è facile. Poi c'è questo qua. Forse si può uccidere da dietro. Ok. Mettissima uccisione. Scendi, idiota di donna! Io urlerei un po' di più se fossimo voi, eh. No! Ma va, fanculo. Fanculo, credini. Eh, gioca cazzo! Eh, come fa a colpirmi dai... Ah, fanculo. Ah, fanculo. Andiamo a continuare di qua, credo, ragazzi. Passa da sotto Lara, vai 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 Anna dove sei? Dio fa Ragazzi interrompo un attimo il gameplay Come al solito Gameplay quindicesimo qua di Rise of the Tomb Raider Che divido in due parti esattamente come gli altri Quindi un attimo di pausa E torno subito Dio fa Ok ragazzi scusate Sono qua nella seconda parte Di questo gameplay Ho avuto dei problemi tecnici Spero che La tv si riesca a vedere Adesso ok Sono nel campo base Qua ho potenziato quello che era possibile potenziare E quindi Continuiamo Dio fa Stavo dicendo prima Avezione Qua dobbiamo andare sott'acqua Ma anche qua Dai Lara Fate fur Crettina Sembra di sì Le squadre di demolizione Andate morire Pazzati A voi morire Ma non erano in due Ah l'altro è lì Adesso almeno li uccido Un po' più velocemente Eh ma Cristo Torna Ragazzi scusate Lo segnale Video che va e viene Problemi tecnici questa sera Aggiungerei anche Un bel dia fa Ok ragazzi scusate Di nuovo l'interruzione Adesso Ho cambiato il cavo HDMI Quindi non dovrei avere più problemi Andiamo ancora un po' avanti In questo Quindicesimo gameplay Probabilmente il gioco Lo finiremo nel prossimo Sempre a tempo permettendo Vedremo Qua ci hanno beccato Subitissimo Ovviamente Fatevi furbi Dio fa Mori ammazzato Fuori l'araco Sedumamateina Ma muori Che meriti solo la morte Brutta stronza Dio fa Ragazzi Questo è il peggior gameplay Che abbia mai caricato Non sono mai morto Così tante volte In un gioco In diretta Andremo con gli altri Una croft Vieni gli occhi e messi E inizia a bruciarla E' riuscita a farci Crollare addosso L'intera torre E' proprio Una spina nel fianco A proposito Della croft Andiamo Sotto attacco Siamo sotto attacco Ancora vivo Quello lì Ora che roba Non è veramente credibile Corri di affà Ma che furi Cretina Corri Lara Che sono già abbastanza stufo Qua Entra nella stazione meteorologica Quindi si entra di qua Proviamo Cerca la stazione meteorologica Ancora su All'improvviso L'incoscienza Ma sono già arrivato Dove erano loro Lasciato lì In bella mostra Arrenditi alla volontà di Dio Se stai per iniziare Con la predica Entra negli edifici Della prigione Un po' più lontano E l'avrei messo Quindi da qua Aiuto Dai Lara Che sono stufo No eh Fate furti Io fai Ah morì ammazzato Ma non sta roba Ma figlio Sì, cazzo è mia, ma... Aiuto! Mamma mia, tu hai... Oh, sei cretina! Aiuto! Ehi, mamma mia! Finiti nel più tridume più totale di uscire da qua? Alla gruva! Sto cazzo di Giova Scretinolo è! A voi, morì! Non ci è arrivati! Stà Lara fa solo casino Trova Giona nell'edificio da prigione Altra scena Giona, cosa di successo? La tua lealtà nei suoi confronti è forte Ti ammiro Davvero Ma anche la mia pazienza ha un limite Dimmi quello che sai Ora! Giona! Oh oh! Fatti fai un coettino! Ammazza! Fanno! Ti prego Ti prego No! Non ascoltarlo! Stavo solo facendo quello che ritenevo giusto E' vero! Jonas è un stronzo Rastrellate le celle Uccideteli tutti Ma beh basta Mi dispiace Avrei dovuto ucciderlo Ma era disarmato Non potevo Non dovevi farlo Mi dispiace Averti trascinato in questo casino Pensavo di starti dietro Arrivalo Siamo circondati Questa volta ti proteggo io Sta morendo Non ci resta molto tempo Sbarra la porta Spingi gli attacchi da Trinità Bene ragazzi Fermo qui Obiettivo sbloccato A ogni cosa Salva Jonas da Constantine Ok Poi non l'ho fatto Spingi gli attacchi da Trinità Bene ragazzi Mi fermo qua Questo era il quindicesimo gameplay Di Rise of the Tomb Raider Nel prossimo forse Arriveremo ancora più vicini Alla fine del gioco Penso che non manchi tantissimo Non lo so perché il gioco Lo sto giocando per la prima volta Qua con voi su Youtube Da quando ho iniziato questi gameplay Da quando il titolo è praticamente uscito E quindi tra poco Spero prima della fine dell'anno Di portare a termine Questa fantastica esclusiva Xbox One Mi fermo qua Al prossimo video Del canale d'animaggio Ciao a tutti Ci ritroviamo presto Di affare Esco anche a parlare stasera Ci ritroviamo presto Ciao a tutti Ragazzi Devo finire il video Con un bel Dio fa Ciao a tutti